Hey ragazzi, qui con voi c'è Frostinox! Oggi, in questo video, vedremo uno degli argomenti che più vi piacciono nel mio canale, ovvero i cartoni animati. Oggi, in questo video, ho raccolto vari riferimenti a famosi mostri trovati, per l'appunto, nei cartoni. Mostri che probabilmente molti di noi conosceranno, attraverso le creepypasta, ma anche attraverso film e storie famose. Beh, che dire ragazzi, guardate tutto il video fino alla fine, ovviamente lasciate un like e... Ciao! Numero 1 Partiamo bene, molto bene, veramente bene, perché il primo cartone che vediamo oggi è proprio lui, Gumball. Il cartone che non manca mai in nessuno dei miei video, a quanto pare. Eh eh, ma comunque sia, in questo episodio della serie, siamo nel giardino della casa di Tobias e la sua famiglia. A quanto pare, hanno dei bellissimi cespogli, che addirittura, un uomo dotato di una sega elettrica, ha deciso di ritoccarli un pochino. Quel tipo non è altro che un riferimento a Jason di Venerdì 13, se notate bene, soprattutto per la maschera. Numero 2 Siamo su Steven Universe, un cartone che tratta delle avventure di Steven e delle Crystal Gems. Ci troviamo in uno dei primi episodi della serie, dove iniziamo un po' a conoscere questi personaggi. Chi sono? Che ruoli hanno? Ed in episodio specifico, vediamo come Steven va matto per un gelato chiamato Cookie Cat. Se notate bene, come viene rappresentato quel deliziosissimo gelato nella sua bustina, sapete già dove sto cercando di arrivare, ricorda moltissimo Cartoon Cat. Numero 3 Siamo su Adventure Time, ma qui non parliamo di un riferimento a un famoso mostro. Ma siamo qui per parlare di come una creatura apparsa in questo cartone assomigliasse moltissimo a una creepypasta che ultimamente gira nel web. E di cui moltissimi ne stanno parlando e molti di voi mi stanno chiedendo di farci un video sopra. Avete presente Cartoon Cat? Quello lo abbiamo già trattato moltissime volte nei miei video, ma oggi vediamo come il suo gemello buono, ovvero Cartoon Snow, appare nello show televisivo Adventure Time. Guardate le somiglianze, sono proprio quelle. Ovviamente per simpatia lo dico, il personaggio che vedete non ha nulla a che fare con il vero Cartoon Snow, ma li somiglia moltissimo. Numero 4 Gamble Siamo di nuovo sulla serie cartonesca più portata nel mio canale, ovvero lo straordinario mondo di Gamble. Siamo in un episodio dove i ragazzi estremamente pigri decisero di non muovere proprio nessun muscolo, nel mentre fuori stava cadendo il finimondo e loro stavano lì a riposarsi. E tra le tante cose no sense troviamo un essere uscire dalla televisione. Tempo fa dissi che assomigliava moltissimo a Samara, ma se ci pensiamo meglio, una creatura così non somiglia nient'altro che all'SCP-096. Tranne per il fatto che SCP-096 non ha i capelli, ma questo strano monstro si li tiene. Numero 5 Ormai nel mondo del cinema è diventata molto popolare la storia della bambola killer, chiamata Chucky. Possiamo trovare vari riferimenti a riguardo in moltissimi film, ma anche serie cartonesche famose. In un video che caricai tempo fa e che vi invito ad andare a guardare, abbiamo visto come apparve pure su Gamble questa bambola. Ma stavolta tranquilli, non siamo su Gamble. Siamo su un altro cartone molto famoso, ovvero i Simpson. In un episodio di quella serie cartonesca, che oltre a questa bambola, ha vari riferimenti riguardo a tutto, troviamo pure un riferimento dedicato proprio a Chucky. Come vedete qui. Bene, il video finisce qui. Non lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e alla prossima. Ciao! 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 Ciao!